Quindi, ecco la parte 2. In questa parte 2, vi consiglio di vedere la prima parte, vedremo che in questa mappa qua che abbiamo appena creato, se io clicco su un punto viene fuori praticamente tutto il contenuto della tabella QGIS. Se vi ricordate, in QGIS quando noi apriamo la tabella ci sono moltissime colonne e tutte queste colonne vengono fuori quando clicco sul pop up. Poi vogliamo cambiare this is title con una cosa modificata, metteremo questo un titolo o qualsiasi altra cosa, modificheremo le icone presenti che qui adesso sono uguali e cercheremo di categorizzarle. E poi cambieremo lo sfondo della mappa. Quindi, adesso chiudo qui e proviamo a... ma possiamo anche lasciarlo aperto. Modifichiamo le icone. Allora, per modificare le icone c'è un procedimento che viene... Adesso non funziona più QGIS Sì, ok, è la mano. Non funzionava la mano. Bisogna aggiungere una colonna, icon exp, che dopo vi dico proprio esattamente come scrive. E in quella colonna, icon exp, dobbiamo mettere l'icona personalizzata. Come facciamo? Allora, la prima cosa è... Scusate, storgo OpenStreetPub. Ok, zoom to layer. C'è un mouse troppo sensibile. La prima cosa è... categorizziamo per vedere quali categorie ci sono. La colonna per categorizzare, per chi conosce OpenStreetMap, usiamo amenity. Quindi abbiamo... Tutte queste categorie. Per visualizzare quanti punti sono dentro una categoria, se schiaccia il tasto destro, c'è... Show Future Counter. Ok, 108 senza categoria. Caffè 31, ristoranti 20 e bar 9. Quindi concentriamoci su, ad esempio, i bar e i caffè. Andiamo a scegliere le icone. Vi consiglio di andare su map icon collection, dove sono presenti molte molte mappe. Quindi abbiamo detto bar, caffè, che sinceramente non so la differenza, e ristoranti. Quindi qua c'è un bel menu con delle classificazioni. Allora, per i bar, perché c'è anche il caffè. So che c'è il caffè, questo. Quindi scegliamo il caffè viola. Ok. Sì, questo sito è molto interessante. Quindi, possiamo creare il link diretto, però visto che map icon è come se vieta un attimo l'accesso, quindi quando si caricano le icone direttamente dal sito. Quindi facciamo il tasto destro e lo salviamo in locale. Facciamo una cartella icons e salviamo coffee. Poi per i bar usiamo fast food. Save image, fast food. Ah, però cambiamo lì il colore, sì, così. Ok. Save images, ok. Poi, vabbè, abbiamo detto i ristoranti. Facciamo un ristorante cinese. Cambiamo ancora icona, sì, perché dopo così almeno si vedono meglio, perché non sono tantissimi. Perso cinese. No, mettiamo una bella bistecca. E poi mettiamo un'icona per tutti gli altri che non sono stati categorizzati. Ok, wifi. Quindi, adesso andiamo in QGIS e dobbiamo dirgli a questi punti di prendere una nuova colonna e categorizzarli, associare l'icona in base alla loro categoria. Per fare questo, c'è un'importante espressione che va fatta sulla tabella. Iniziamo l'editazione, schiacciamo il parotoriere. Quindi, l'output file name è icon underscore exp. Il type deve essere text. E poi dobbiamo iniziare a scrivere. Case, when, il campo è amenity, uguale, bar. Fate attenzione alle varie virgolette che utilizzo, perché è amenity, che è il nome della colonna, ha le doppie virgolette, mentre bar, che è il testo di ricerca, ha le virgolette singole o gli apostovi. Quindi, then, praticamente scrivi, se amenity bar, scrivi icons, che sarà la cartella dove andiamo a archiviare le icone, che per adesso le abbiamo messe sul desktop. Quindi, avevamo detto icons, per i bar, e fastfood png. Poi qua ne possiamo aggiungere quante ne vogliamo. To, when, ancora. Andiamo a copiare questo, così. Facciamo meno errori. Poi abbiamo detto un altro when. E alla fine, s, per tutti gli altri, facciamo s, sì, sì, s, basta mettere questo. Quindi, questo rimane un attimo, livello sempre sopra. Quindi, f2 perché non funziona? Ah, perché ce l'ho qua sotto. Allora, se non è una di quelle categorie, metti wifi.png. Se è un ristorante, metti ristorante steakhouse. Se è fastfood, se è fastfood, l'abbiamo messo, se è caffè, mettiamo coffee.png. Ok, andiamo su, ritorniamo su QGips, perché dobbiamo mettere, ok, amenity bar, mentre per il coffee si chiama caffè. Mentre, sì, qua si colora in modo diverso, ho visto anche caffè e wifi, non so il motivo, ma comunque funziona lo stesso. Invece, per restaurant, possiamo copiare restaurant, che è scritto nello stesso modo. Ok, pronto a seguire, dovrebbe essere tutto a posto. C'è qualche errore. Case when, then, icons. Cos'è che mi dà errore? C'è qualcosa che mi dà errore. Qua sotto. Sì, ho visto, mancava un end finale, eccola qua. Ok, eseguo. Quindi, questo mi crea una nuova colonna che si chiama IconExp, di tipo text string, e quando trova queste categorie, associa un'icona diversa, e se non trova una di queste tre categorie, mette l'icona wifi. Faccio ok. Lui reesegue, se andiamo, chiudiamo l'editazione, faccio salvo. Se andiamo a vedere la tabella, in fondo, abbiamo una nuova colonna con IconExp, con le icone differenti. Ok, quindi, avevamo detto il primo punto dell'icone. Questo qua funziona. Adesso, se facciamo export, non c'è bisogno di fare altre opzioni. Lui riconosce che c'è questa colonna IconExp. e associerà l'icona ai punti. Poi abbiamo detto che nel pop-up escono tante righe, quante sono le colonne, e quello lo modifichiamo dopo. La modifica del titolo lo modifichiamo dopo. E poi cambiare lo sfondo. Lo sfondo lo possiamo vedere subito adesso, quando facciamo QGIS to lift, export. Qua ha già preso le impostazioni di prima, e qua, in base map, possiamo scegliere tante mappe, non sono più in una decina. Adesso scegliamo StamenColor, lui me lo esporta sempre in desktop. Il titolo è vero, lo possiamo modificare qua, ma preferisco farvelo vedere dopo, dove si va a modificare con l'editore di testo, che comunque dà più opzioni. Ho visto che il grafico qui è molto di osgeo, vabbè facciamolo lo stesso. Ok, sta esportando, l'ha esportata. Adesso forse è già aperto però. Perfetto. Ok, Stamen l'ha preso. Vediamo se prende anche le icone. Le icone non le prende, ma perché? Perché io nel questo... Questa cartella qua, icons, non l'ho inserita al suo posto. Vediamo qui, io ne ho esportati un po', dovrebbe essere l'ultima questa, in colla. Che lui va a prendere icon e poi l'immagine. Adesso se non esce perché ho sbagliato cartella, infatti. Visualizza... Perché non mi fa vedere? Field mode, ok. Lista dettagliata. Andiamo su. Ok, togliamo indietro. Questo non deve andare in questa cartella, ma deve andare nell'ultima modificata, che è questa. Adesso dovrebbe funzionare tutto. Perfetto. Sì, se non avete capito questo passaggio che sto sottovalutando, però potrebbe essere importante che le cartelle e le icone che avevo salvato prima devono essere nella stessa cartella, perché io ho scritto icon e il nome delle immagini, quindi si presuppone che sia nella stessa posizione dell'index. Icons è qui nell'index. Quindi nell'index viene caricata una cartella icons e poi il nome dell'immagine. Comunque, se avete bisogno di questa spiegazione, chiedetemelo pure. Quindi, sicuramente ho visto che ci sono le varie icone che sono cambiate. Questo è il del ristorante, queste sono quelle che non era stato attribuito niente, poi vediamo... Sì, vabbè, ci saranno sicuramente anche gli altri. Bisogna andare in giro a cercare dove sono i bar. Ecco qua un altro bar, che tra l'altro è fuori dall'Italia. Ok. Vediamo un attimo allora come cambiare il titolo, cambiare il testo che viene qua, dentro al pop-up, perché viene ancora tutto, e poi dobbiamo aggiungere qua tra i crediti anche che noi abbiamo preso le icone da map icon. Quindi, tutte queste operazioni si fanno direttamente nel file index.html, lo apriamo con un editor di testo, a me piace gphp edit, anche se ha questo problema, ma che la prima volta che si apre c'è un editor con font schifoso. Ok, sans adesso dovrebbe essere a posto. Allora, se voi andate qua, ci sono tante, tante informazioni, ma come quello che c'è dentro al pop-up content è dentro alla riga 34, o comunque se non trovate la riga 34 cercate var pop-up content. Qui c'è una tabella lunghissima, adesso diciamoli a php edit di andare a capo, tutta questa tabella è tutto quello che viene fuori nel pop-up. Diciamo che noi vogliamo inserire nel pop-up solo il sito internet, se esiste di quel caffè, di quel bar, di quel ristorante, e poi il nome, se è un bar o un ristorante. Quindi dobbiamo individuare in tutto questo testo la riga amenity e la riga website. Website è questo, e amenity, se non sbaglio, è un po' più avanti. Amenity, no, qua, sì, sì, è la riga direttamente dopo. Questo qua è il codice php, quindi non vi confondete con HTML, è codice JavaScript, non vi confondete con HTML. Quindi lui unisce il file di testo con questi apici, e poi mette il più, mette il suo codice JavaScript, poi mette ancora più e riscrive il testo. Quindi noi facciamo un attimo attenzione, quindi andiamo lì in website, se conoscete la struttura dell'HTML, questa qua è una tabella, quindi da tr, cancello tr, e lo porto qui, quindi tr, website, poi posso andare a capo se ho qualche problema di visualizzazione, poi tr, anche qui col più posso andare a capo, tr, andiamo a prendere, ah, è già qua, amenity, poi vado a capo, ancora qua, tr, e questo, vedete, cambia subito il colore se faccio un errore, questa è la chiusura della colonna, possiamo andare in fondo, e andare a prendere l'ultimo tr, cancellare tutto, andare sopra, e quindi qui, table, si chiude, lui per, per gli url, utilizza questo autolinker, che se vede un url, mette automaticamente, il link, nel pop up, questo possiamo sostituirlo, ah, ref, search, se vogliamo modificare il nome, ma ad esempio, per amenity, non ci interessa, e quindi, tiriamo fuori, solo future properties, amenity, e lo mettiamo in questo document, basta semplicemente fare così, o comunque scegliere, tutte le colonne che si vogliono, si possono mettere, immagini, qualsiasi cosa, con, del codice, html, trasformato in questo modo, appunto, javascript, per permettere di leggere, le colonne, perché lui, ad ogni elemento, con future properties, website, va a prendere proprio l'elemento, quella riga, quel punto, possiamo salvare, per vedere, il risultato, f5, andiamo su, questo, caffè, video, website, e amenity, caffè, non c'è il website, sapevo che c'era su, su Brescia qualcosa, questo, ok, lui ha abbreviato il link, e mi ha messo già direttamente, il link, al sito internet, immaginatevi quante cose, si possono fare, mediante quella modifica, poi andiamo a modificare, il titolo, se noi andiamo a vedere, non page source, ma, expect element, this is title, racchiuso in un H2, quindi andiamo qui, e cerchiamo, ctrl f, H2, ok, eccolo lì, invece di, questo è un titolo, mettiamo questo un titolo, questo è un titolo, salviamo, invece di, this is title, facciamo F5, diventa, questo è un titolo, quindi possiamo mettere, quello che vogliamo, e alla fine andiamo a vedere, qui, i crediti, c'è un particolare, codice javascript, qui, più o meno, alla ventiquattresima, riga, created, QGIS to leaf, QGIS, noi mettiamo, map icon, ci dice esattamente, cosa dobbiamo mettere, nella licenza, nel caso in cui, utilizziamo le sue icone, mapixon collection, copiamo, direttamente, tutto questo, andiamo qui, ok, Giorgio Lichius, è contributor, mettiamo, cosa usa per, mettiamo un trattino, mettiamo, incolliamo tutto questo, e poi mettiamo, un url, a, dov'è che lo mettevo, un url, ok, a creative commons, copiamo il link, copy link location, ok, a href, vedete, sto proprio scrivendo, in, html, html, ok, perfetto, salviamo, e, qui sotto, insieme a, Giorgio Lichius, e, contributors, adesso, apparirà, anche, map icons, mappi con il nostro collection, ok, perfetto, abbiamo finito, anche la parte 2, abbiamo risolto, tutti, tutti, i nostri dubbi, spero che vi è piaciuta, se avete domande, come al solito, fatele, ciao, ciao,